No, non l'ho affeggiato, si ora l'ho affeggiato Se vede via quadriposto, 3m2, una Leitner anni 2000 Non l'ho affeggiato, si ora l'ho affeggiato, non l'ho affeggiato Non ho affeggiato, non l'ho affeggiato, non l'ho avanzato ma l'hai chiamato se c'era campo almeno? sei ingegno sei ingegno sei ingegno ho capito ma guarda quante tacche hai ho capito ma guarda quante soli hai? 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 questa che facciamo ora cos'ha? cos'ha insieme? la rossa mi fa usura c'è rossa tipo qua e qua è un pianoro per dire ah no per l'altro quella è la sinistra è strana sto laio dove? credo l'hanno fatta l'ora si ha avuto il piazzo eh? si 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 se E' un' diversa, sto parla di raleggeri. E' un' diversa. io ricordo perchè era il punto più alto, che si chiamava il punto lento all'inizio c'era il nome, non si chiamava un cazzo perchè c'era ancora la nera però era visto alto, però non si chiede che c'erano qualche sette e mi chiamano un po' e per il quattro è un po' e abbiamo un terapico chiamato la Orna e ha incontrato il rato con l'altro e ci hanno che avanti Sì, 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 sono venuti, sono venuti a prenderla verso il corso e poi l'hanno Sì, sì, sono venuti a prenderla verso il corso e poi l'hanno scelto Grazie